ed eccoci di nuovo chef nefer oggi proprio si è data la pazza gioia che stai facendo chef nefer cosa ci combini per cena prima non ho detto niente ora devo parlare ecco facendo un tortino di arici con le patate e il prezzemolo facci un po vedere faccio un po vedere ma pure la pubblicità pescheria facciamo la pubblicità la pescheria dove abbiamo preso queste alici pescheria da toto di anguillaro sabazia hai visto dici un po gli ingredienti allora mezzo chilo di alici due patate che vanno bollite un po di pepe un po di prezzemolo aglio olio pangrattato pecorino tutto a volontà sembra succulenta la cosa e quindi adesso che cosa stai facendo stai facendo uno strato alla base di alici esatto ok poi dopo mettiamo le patate le condiamo e subito dopo ricopriamo con le alici che avanzeranno e poi e poi inforniamo a quanti gradi a 180 per circa 20 minuti ok lo vediamo dorato ok allora la ricetta ce l'avete la procedura pure e che dirvi ci vediamo fra poco con il piatto finito